salve a tutti in questo video andremo a vedere delle funzionalità che ho scoperto personalmente da poco su obs studio 29 e queste funzionalità per me sono abbastanza importanti e ha senso spiegarvele perché magari si sentite dire solo da vari forum o all'assistenza che trovate su obs studio che a obs studio essere nuova non funziona perché plugin vecchi non vanno allora uno i plugin vecchi che non vanno perché sono vecchi tecnologia vecchia e hanno deciso di levarli e devono essere tutti aggiornati a una tecnologia più nuova e poi aggiornati non si tengono plugin vecchi nei programmi e ma me funzionavano e quindi bs merda no è l'unico modo che a obs per avere tutto più o meno aggiornatissimo perché quello che è interessante che c'è un plugin che adesso sto cercando il nome e vi dirò il nome che ha sempre funzionato più uno così e dopo ve lo dirò il nome quando mi viene in mente che aveva l'auto update f stream fx eccolo qui nome praticamente installando stream fx ogni volta che lo apri obs studio che apri obs studio si fa un check di stream fx in automatico e quindi si fa vedere se c'è l'aggiornamento per quel plugin quindi questo dovrebbero fare tutti i plugin nuovi in teoria dovrebbero essere tutti aggiornati e quindi questa è la prima cosa che importantissima e io condivido completamente e nella versione 29 io ho trovato questa funzione sull'audio che è molto interessante adesso andiamo a vederla e ve la spiego allora un attimo che apro obs studio allora siccome un obs è quello che sto usando per voi per farvi vedere come si usa per farvi vedere me stesso devo aprire un altro bs in qualche altro modo quindi adesso vedremo ok guarda che ero avvio comunque perfetto adesso mi incaccio in alto in modo che do meno fastidio eccolo qui adesso vedete un altro obs studio allora io ho trovato questo plugin e l'audio ma per caso allora prima cosa che mi faccio notare vedete che l'audio del microfono è sempre più o meno a meno 10 allora questo è questo è l'effetto finale del plugin che ho utilizzato e ci vuole anche una catena precisa per fare questa cosa è una cosa che avevo notato in alcuni microfoni scarsi è che ok io la microfono comprato da 30 euro ok che fa schifo ok boh non so poi ho la cuffia col microfono da gaming ok questi tipologie di microfoni erano bassissimi quindi tipo metto l'audio del microfono al massimo e non arrivo neanche a meno 45 quindi una schifezza devo sparare a più 5 mila l'audio per far sentire qualcosa questo non è più necessario perché mettendo una catena di plugin corretti nel modo giusto si risolve quindi tutti i vostri microfoni scarsi riescono a far qualcosa di decente finalmente allora la prima cosa che tutto sta nei filtri quindi vado su microfono ausiliario sui tre puntini ok vado su filtri adesso li vediamo tutti in ordine e così vediamo quello quelli nuovi quelli vecchi e la sequenza corretta allora mi raccomando avrete un microfono che magari è sensibile e quindi sente il tutto anche le schifezze di rumore sotto il vostro computer che è un cattorcio che ha la ventola e si chita rumore della ventola allora dovete mettere riduzione del rumore io adesso sto usando i nomi esatti dei filtri quindi più riduzione del rumore se proprio riduzione del rumore esattamente ok come metodo speaks perché ho visto che r noise è troppo forte nel senso troppo potente e sega troppo audio alle volte non si sente niente di quello che sta dicendo è una buona limitazione a meno 40 cioè andiamo qui tutto quello che sotto meno 40 lo seguo ok mi raccomando se sono un pianista e sto suonando e voglio sentire anche i suoni bassi 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 devo le vale riduzione del rumore altrimenti quando il pianoforte suona troppo basso sega tutto e non sentiamo più niente quindi questa è una modalità di setup per i youtuber per esempio per il gamer o comunque per qualche webinar ok poi c'è un altro tutorial no tutorial plug in filtro che è compressore verso l'alto compressore verso l'alto tutti i parametri sono lasciati uguali tranne il soglia che ho messo meno 10 cosa vuol dire che prende l'audio e lo spara a meno 10 ok quindi questa è una cosa poi l'altra cosa da fare è ok potreste avere invece in qualche momento l'audio alto non si sa mai perché magari in una situazione dove gente parla basso gente parla alto volumi strani allora come ultimo va messo un limitatore in modo che al massimo arrivi a meno 10 cioè se è basso con il compressore verso l'alto lo spara meno 10 se è troppo alto con il limitatore lo riporta meno 10 non va fatto l'inversione perché adesso la vediamo se è umberto metto prima il limitatore poi verso l'alto sempre poi compressore ecco è rischio che vado sopra ecco sono andato sopra al sul rosso sto andando sul rosso e non va bene perché il rosso è distorce il rosso equivale a distorcere questo è il nuovo filtro che ho visto e ci saranno anche tante altre cose per adesso sono metodico e uso quello che ho sempre usato però almeno questa cosa qui è una figata e funziona molto bene quindi anche l'audio che stiamo sentendo è un audio molto buono e può essere sentito bene sia sui cellulari che su pc portatili con le casse interne quindi è tutto a posto per questo video tutorial è tutto è tutto